no eccoci qui nati io ciao ragazzi min che facciamo ad esprimere il senso st roma e io direi di ritornare qua sotto no si è magari troppo da papas e vera e propria se come aspetta l'anno intanto possiamo perdere e per esempio quel carbone che cosa buona e giusta io penso io penso un po' di gobo sonco apocche però no io forse ce l'avevo il piccone ops scusa e te ne posso questo per esempio e da vicino al carbone t'ho dato un piccone ehm c'è lo studio di più che altro ti sento la voce un po' laggante eh sì stiamo dormendo dicono letti chi ce l'ha? eh domanda a al coso dei letti i c'è aspetta come vedi chi ce l'ha fuori come vedi quanto è mai vicinissimo ti ricordi eh sì però ci sono dei creeper aspetta eccomi qua vai ti dico se c'è qualcuno tu rompi il lecosa vai vai in campo che mi lagga si ok sto qua ok ce l'abbiamo fatto tu sei arrivando più o meno ok ok allora un secondo dormiamo ok ho un mostro dentro basta scherzare no eh però no ok a me sto scherzando in questo momento si sto scherzando sto laggando stisci dove sei stai? che succede? non è che tipo sto crescendo o sono morto aspetta perchè mi sei dentro casa eh io sei dentro fuori oddio aspetta attimo di l'arte se muoio aspetta eh vai te l'ho aperta un po' tuttola ma non scendi oh di nuovo dove ma dove si ora mi vado ah eh ecco io perchè sto salendo ah di nuovo vai 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 ci dici perchè se no qua arria tutta quella gentaccia abbastanza brutta quindi chiudiamo ok perfetto ok ok tutto sono nostri nemici quindi linea e signori infatti la troppo tanto io non so io che la vostra si è infatti eh forse non vorrei fosse per col motivo dell'update che devo fare è possibile però beh dai se ce l'abbiamo fatta ok quindi adesso adesso ah se l'altra volta c'è il fumo di bolligiu penso che alla fine la base l'avrata l'avrata vicino insomma quindi hociotto meradans aperto scusate tutti adesso lo stavo usando ma per conto mio allora io mette un attimo sto l'inventario faccio 4 cose inutili quindi quindi io ho mi forse meglio fare un'altra c'è stelta come il table acqua tutti scritti stiamo ma assolutamente aspettato un attimo il ragazzuoli che devo chiedere penso forse qualche programma se spengo ma se non succede niente no perchè si è vero non succede niente in teoria no allora questo ah c'è anche qua c'è qua vabbè quello lo lascio lì ci abbiamo io c'è un sacco di pelle possiamo farci un po' di se vediamo se riusciamo a farci una chest plate per uno aspetta eh sì sì aspetta rombo mostno al caos si vediamo se mi la ok questa è la tua chest plate di pelle che si sta un po' laggando penso o la gambe no a me non lagga quindi i sintesi ok salgo via almeno c'abbiamo poca poca protezione così poi io qua metto cuocere un po' di cose qua dentro c'ho un sacco di cose da mangiare allora fuori c'è diritto 32 bistecche gioco un crever che si mette in zona dell'erbo ecco sì attenzione allora la fornace si non 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 è proprio funzionante al massimo minecraft oggi a me c'è fatto caso che tipo ci sono delle ruole rotonde con fiori rossi e un giallo un fiore giallo al centro si si l'ho notato l'ho notato quelle sono state fatte apposta credo oh ma sotto il fiore giallo c'è una chest davvero? dove stai? fa vedere dietro casa una spada di ferro incantata dietro intendi sopra si non vedo il tuo nome un attimo ecco lì ecco lì sì 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 forse mi strano no ma stupendo c'è la cesta dentro là guarda guarda qua la spada l'ho presa stupendo ce l'ho dato prima ma oh momenti ci cadeo cos'altro c'è? ah niente ok fin io ho trovato vicino all'alberone che gigante è un'altra cosa del genere eh vediamo eh perchè tu sai l'albero gigante che dicevi l'altra volta quale? vedete c'era un albero col tronco più grande eh si quello la dove poi mi hanno uccidito cioè dove sono morto e dove tu hai visto il fu eh sarà qualche qualcosa comunque no forse penso all'avranno messo l'oro ho visto avevo visto qua un'altra rigola di quelle là giganti eh vicino allo spawn eh qua 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 un altro un'altra cesta grande cosa c'è? eh pesce pane è una spada ah vabbè buono buono sì a salbero così ma qua non è due no, ma non è questo si questo è su quattro ma questo è ma cacchio ma che cosa io ho da cercare da qualche da qualche parte c'è un'entrata e ci sono loro quanto scommetti c'è di questo fatto una specie di cazza dentro un albero uno schifo c'è no è impossibile perché non c'entrerebbero però c'è secondo me se scaviamo tipo tutto c'è qualcuno ah questo sei tu brutti adesso qua prendo prendo una bella citta io vado a cercare tipo un'altra aiuola secondo me eh sì se veramente si una gallina mucca ci serve cibo mmm guarda sto cuocendo 32 bistecche a casa però vabbè puoi uccidere per la pelle magari ci facciamo qualche armatura qualche pezzo di armatura qualcosa per ora mi sta laggando un po' troppo ottimo quest quest albero glielo sto sfondando se loro in qualche modo eh e vediamo qua sotto se c'è qualcosa forse proprio sotto l'albero c'è qualcosa magari non mi scavo sotto i piedi sai com'è oh my god come l'h allora vediamo adesso proviamo un attimo sì sì secondo me qua oddio mi sta laggando anche a me sì un problema un po' un po' comune siamo pure due giocatori in meno dell'altra volta no comunque no qua non c'è niente quindi era solo un albero strano ho un'altra aiuola mi sento figo vediamo cosa c'è qua invece grazie no allora calmi oh mio dio cos'è tutta la cesta è piena di oro e quattro diamanti addirittura madonna quattro diamanti e 23 di oro sto tornando a casa oddio diritto possiamo farci c'è un sacco di roba ecco il piove diamanti si quattro pezzi e poco aspettiamolo da parte poche avanti facciamo cosa oppure ci facciamo la nuova o magari una faccia per google è utile in diamante sì sì secondo me ovvio la faccia in diamante ok si c'è un po' di labbra si è capito si è capito oh bello lo sai che pensi che bella la spada con l'interro con l'amore ma che che tipo di incantesimo c'è amatema amatema quattro aspetto di fuoco 2 contro colpo 2 infatti mi ha dato la carne bruciata il lento molto tempo si già porta e cana tema che non lo so non lo so non l'ho mai capito dai mucca mori e io sono dando qua in giro perchè c'è dovresti c'è qualcuno qua in giro qualche qualche bo e perchè c'è stato comunque è in mente dopo 15 è impossibile trovare gli avversari base hanno fatto una casa un po' nascosta ok ciao l'ho trovati l'ho trovati stanno qua dove oddio vanno visto aspetta ma non visto me sa ma dove stanno nell'albero gigante eeeh c'è un anno nostro da tutt'altra parte non lo so non lo so non lo so non lo so cazzo cazzo vanno video oddio vanno trovato aia 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 tarci vostra pure con l'arco stronzoni dove ricorris sei andato a destra della casa oddio setta no 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 oddio no sei morto sì ma ammazzato ma la casa troppo cazzo oddio l'avevo trovati ma non c'è no oddio cazzo peccato ma no guarda come se la pietra niente io già ho perso l'altro quindi l'altra vita mi sembra o no se quando sei morto col creeper eh sì è vero oh porca miseria mi dispiace mmm ma gioco di stare da solo porca miseria Dio però va bene no e io a sto punto devo uscire ops to rotto la torcia ecco adesso te la rimetto eh complimenti mi scrivo ecco adesso esco allora non mi dispiace ma c'è madonna eh allora niente poi vabbè io finisco di girare qui il video mio quindi niente io saluto saluto i miei iscritti che hanno guardato questi video eh ciao e vabbè ditemi se se vi è piaciuta questa questa idea magari facciamo qualcosa la rifaremo più avanti magari saremo anche più organizzati insomma vediamo comunque molto figa sta cosa del pvp veramente divertente va bene allora ecco io smetto di registrare e ciao a tutti ciao rand ecco qua bene sì ho finito di registrare ecco vabbè vediamo dove era la loro base eh io non ho visto loro cioè non ho visto la loro base più che altro ho visto loro due che andavano in giro e ti dico solo una cosa uno c'aveva un arco eh un altro c'aveva l'armatura di ferro completa e una spada in oro quindi c'è e praticamente li ho trovati come ti faccio come ti spiego praticamente sopra casa c'è una collina e praticamente dando le spalle all'alberone gigante se vai verso sinistra c'è insomma devi continuare verso la riva del fiume in pratica ok tu prendi tu prendi la riva del fiume vai sempre dritto e niente trovi una foresta cavolo erano entrati dentro casa no dentro casa no quello che avevamo costruito noi si oddio no e che hanno fatto da mi hanno ucciso oh no hanno ucciso pure te oddio e niente hanno vinto loro allora mi hanno riusciso guarda che bastardi oh madonna no 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 eh si ci hanno unato a sta botto dai però però la prossima la prossima dai la prossima ci rifaremo ah ci hanno sgomato perchè mi hanno letto il nome ah ecco eh peccato la serie finisce qui eh niente ok vabbè ciao a tutti ragazzi ciao anche i miei ragazzi la serie è finita ciao 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 ciao